Ciao, ti do il benvenuto alla videoanalisi sul Nasdaq, andremo a vedere che cosa è successo rispetto alla previsione fatta settimana scorsa e cercheremo di capire cosa potrà succedere anche alla luce delle pessime trimestrali di questa sera di Amazon, Google e soprattutto Apple, anche in virtù dei pessimi dati USA perché la disoccupazione continua a diminuire, cosa che Powell ieri ha ribadito e non deve accadere e anche alla luce delle parole che Powell ieri e poi la Lagarde oggi hanno pronunciato confermando la loro durezza e la loro, tra virgolette, dimostrazione giustamente di avere le spalle grosse e quindi di forza. Il mercato ieri ha ignorato palesemente Powell con qualcosa come quasi 600 punti sul Nasdaq e DAX altrettanto volato con un numero di punti superiore ai 250 se non ricordo male, oggi ce l'ho provato poi un attimo stesi ancora prima delle uscite delle trimestrali. Andiamo a vedere il tutto ovviamente dopo la sigla mi raccomando non andare via. Eccomi qua, come sempre mi presento, vabbè si vede un po' male la telecamera, sono Paolo Pisino e sono un trader dal 2008 e dal 2007 e da 8 anni lo sblogo Comunica Attività. Mi puoi trovare sul sito tradingpertutti.com e poi visitandolo andare a visionare ciò che metto a disposizione il corso di analisi ciclica e il corso di analisi volumetrica per quanto riguarda la sezione diciamo formativa, il corso di analisi ciclica comprende ben 41 ore di formazione perché è il cuore della mia analisi ed è anche la metodologia che più amo per quanto riguarda l'analisi dei grafici e poi la possibilità, allora tu li stai cercando di collegarti alla sala segnali con i segnali intraday sul DAX, sul Dow Jones e sul Nasdaq comunque sotto in descrizione troverai tutti i link per poterti collegare e approfondire eventualmente collegarti a uno dei miei servizi qualora tu sia interessato. Andiamo immediatamente al dunque quindi non stiamo a perdere tempo Nasdaq. Allora sul Nasdaq avevamo, se lo ricordate bene, avevamo evidenziato un massimo previsto per quanto riguarda 40 giorni intorno all'otto di febbraio ovviamente si è già spostato tutto quanto per via dei soliti giorni che mancano durante la settimana invece andando ad aggiungere il ciclo a 20 giorni avevamo poi i picchi del 19 di febbraio ok, che chiaramente si è spostato nell'arco della settimana sempre per il solito motivo della M24 vado anche a sistemare questo che non ho capito perché si sia sballato tutto questo andiamo qua, ok e questa era tutta comunque un'area, se ben ricordate che andava visualizzata e tenuta bene presente perché avrebbe potuto scaturire, cioè far partire sostanzialmente il ribasso del mercato dal punto di vista ciclico al momento è perfetto, questa linea rossa che ho segnato è il massimo pre-covid quindi anche alla luce dei dati di oggi andiamo a vedere che cosa ci possiamo aspettare il prossimo minimo è previsto? Non capisco perché si sia sballato tutto già perché la Nasdaq la facevo sull'altro broker che mi è scaduto il demo e quindi non mi fa più accedere e dicevo, Nasdaq, ok il prossimo minimo è previsto intorno all'11 di febbraio a questo punto, dato quello che è accaduto potremmo iniziare a essere un po' più probabile che il mercato vada direttamente a fare un movimento del genere andremo a vedere, non dico qua come prezzo, ma parlo come movimento vedremo nei giorni successivi che cosa accadrà intanto facciamo quelli che vanno a tracciare delle trendline cicche valide in modo tale da poter avere un primo segnale da parte del mercato per poter entrare questa è una trendline a 10 giorni che vediamo come è evidenziato il ciclo a 10 giorni quindi la utilizziamo come prima trendline che sarà un possibile supporto e quando verrà breccata darà via sostanzialmente alla fase ribassista di tutto questo ciclo qua quindi nel ciclo a 20 giorni e quindi sarà una trendline sicuramente molto importante possiamo in realtà anche andare a tracciare in realtà se qui abbiamo un minimo da 10 giorni questo qua esatto, la possiamo tracciare anche da 20 giorni a tra line 20 giorni diventa molto più interessante perché è notta veramente di poco diventa molto interessante perché ci dà assolutamente la conferma dei cicli superiori quindi il movimento di ribasso sarà molto più forte quindi per cui ci potrebbe dare addirittura questa di azione quindi il ribasso che vede il prossimo minimo quello importante previsto per il lo mettiamo qua per il 4 marzo 2023 tra l'altro questo indicatore che vedi sarà disponibile finalmente prossima settimana devo solo fare il tutorial per potergli spiegare come lavora e come funziona sarà disponibile e sarà unito a un nuovo programma diciamo formativo che vedrà tutto insieme quindi vedrà l'indicatore, vedrà la formazione, il canale Tegra lavoreremo live tutti quanti diventerà secondo me una bella occasione per lavorare tutti insieme nella stessa maniera con ovviamente anche l'analisi volumetrica quindi sarà veramente un nuovo tipo di formazione anzi un ritorno al passato mio perché io per tanti anni tutte le sere dalle otto a mezzanotte facevo formazione con i miei corsisti vediamo vedere i livelli quindi allora teniamo conto che abbiamo il 20 giorni che è ribassista anche 40 giorni che in realtà non è ancora arrivato sul picco però non sono un bel livello di resistenza i dati di oggi possono anche lasciare pensare che un eventuale segnale sui livelli di prezzo possa dare il via a un ribasso sempre però molta attenzione alla trendline che è veramente molto importante andiamo a mettere un secondo 20 anzi metto una 41 una 41 se riesco a trovare dove è moving average e se vedete che mi dà un bel picco in quest'area quindi ci sta che il mercato vada a seguire questa conformazione e non la conformazione del ciclo a 10 giorni che avevamo visto cioè del 20 giorni che avevamo visto quindi dare il via già a una fase di ribasso con un minimo in linea di massimo intorno al 21 di febbraio quindi fine febbraio, inizio di marzo andiamo a vedere i livelli che sono da una parte completamente opposta qui stavo guardando Apple rimettiamo Nasdaq il suo ora multi day quindi qua Nasdaq multi day e ovviamente in questo caso il future qui chiude a degli orari che si alimenta lui su trading view mai capito il perché in realtà è molto più giù la chiusura in questo momento dei mercati seguiamo un po' di roba allora per quanto riguarda i livelli innanzitutto tutte queste fasi di swing che l'ho tracciata qua su H1 nella giornata di oggi l'ho anche già cancellata complimenti Paolo quindi non possiamo fare niente e sostanzialmente vedeva per quanto riguarda il DAX questi swing qua rialzisti li vado un attimo a mettere swing rialzisti ok c'è un po' di paciuga però rialzista rialzista e rialzista vedete tutti i swing da 1020 punti è andato preciso 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 io avevo quasi scommesso che in realtà questo giro qua la saltasse tutta questa fase di ribasso e volasse via alla luce dei dati potremmo anche essere già in presenza di una bella possibile inversione guardate anche il volume enorme molto molto grande quindi ci conferma assorbimenti da parte dei venditori e quindi assorbimenti dei compratori io vedremo però sono abbastanza fiducioso che in realtà il mercato possa iniziare a fare uno storno e quindi andare a normalizzarsi perché è un mercato che non ha logica di esistere né in America che tutti o è in ritardo in ritardo ma ha fatto 23% in 15 giorni tantomeno il DAX che ha 13% non sarà sicuramente a meno mi auguro un anno come quello del covid un anno medio va da un 10 a un 20% all'anno in movimento queste hanno già esaurito praticamente tutto l'anno di rialzo in 10 giorni perché ripeto io non mi aspetto un 100% neanche un 50% neanche un 40% un 60% quest'anno sui mercati non avrebbe logica sarebbe la prima volta nella storia una roba del genere con tutto quello che sta accadendo quindi torniamo a noi un bel livello andiamo un po' se troviamo qualche livello interessante qui siamo in zone veramente assurde non si capisce un tubo ovviamente il livello di resistenza è 13.115 questo è il future il primo livello decente di supporto rimane quest'area qui abbiamo un supporto statico che è 12.360 e io ho tracciato questi l'ultimo supporto con il volume interessante è 12.279 ovvio non è che si debbano aspettare per poter entrare al mercato 1.056 punti perché sarebbe una follia però a posizionarsi magari in intraday si può già cercare un ingresso un altro bel livello secondo me è questo questa linea bianca chissà dove l'ho pescata ah l'ho pescata qua questo intanto mettiamolo qui un altro bel livello è sicuramente questo qua che potrebbe essere il primo livello da usare per uno short io in multiday mi sa che qua eccolo qua in multiday si potrebbe anche andare a pizzicare questo livello per un ingresso short quindi sotto 12.805 magari con una conferma in intraday per essere un po' più tranquilli bene direi che con questo ci possiamo anche salutare l'analisi l'abbiamo fatta vedremo poi settimana prossima come si sarà evoluta la situazione e che tipo di decisione avremo preso e potremo prendere vi saluto mi raccomando se vi è piaciuta l'analisi vi chiedo di mettere un link scusatemi sono stanchissimo un like e cliccare sulla campanella e registrarvi al canale per essere sempre aggiornato con le mie analisi sempre completamente gratuite con questo è veramente tutto vi auguro una buona serata e alla prossima settimana ciao ciao